Amici studenti e non buonasera, in questa lunghissima quarantena che cosa fa lo studente? Beh, ha molto tempo, quindi no, non studia, cucina, esatto, è finito il tempo della pasta al tonno, dei piatti pronti, faccio più alto, ma adesso possiamo dedicarci alla nostra grande passione, quindi questa sera vi farò la pasta al forno. Io lo so cosa starete pensando, ma Phil è quasi a prima e tu hai ancora lì un pandoro da Natale, non è lì da Natale, è lì da quattro anni, ma iniziamo. Anzitutto si prende la teglia dove sarà fatta la pasta al forno e la si lempie di pasta, naturalmente come vedete si sta leggermente sotto il livello della teglia perché poi si gonfierà. Dopodiché, visto che tanto abbiamo tempo, iniziamo a tagliare la mozzarella che andremo poi a mettere qui, molti utilizzano la resciamella, altre cose, insomma io la farò con la mozzarella, non ci metterò il cotto, anche se di solito metto il cotto, nemmeno le uova sode, anche se di solito metto le uova sode. Perché? Perché non ho sbattito di farle. Dopodiché si prepara un soffrittino a fuoco molto molto basso, io ho usato lo scalogno, potete usare cipolla, aglio a vostro piacimento e poi intanto si mette a bollire l'acqua. Sta già bollendo, non preoccupatevi, è su da ieri mattina. Infatti, vi ricordo che per far bollire una pentola d'acqua servono dai due ai tre giorni circa. Piano piano, che cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere la pumbarora, la passata, la polpa, questa è poca, quindi ne apriremo un'altra e inizieremo a washerla. Nel frattempo, caliamo la pasta. La tasta che va ovunque tranne che nella pentola. Porco! Come vi dicevo, la pasta al form è uno dei piatti più a piacimento che si possono creare. Potete davvero metterci qualsiasi cosa. Io ho deciso di farla molto semplice, perché semplicità vuol dire semplicità. Iniziamo a metterci un pezzico di sale, a vostro piacimento, alziamo leggermente il fogherello sotto e cuocere, cuocere e ancora cuocere. Bene, come vedete, la pasta l'abbiamo tolta qualche minuto prima, giusto per averla un po' al dente, visto che poi andrà in forno. L'abbiamo mescolata in una padella e adesso, visto che è appena arrivata sulla teglia, ci mettiamo la buona mozzarella e dopodiché andrà in forno. Bene, la teglia è appena stata messa in forno e come vedete, buon viaggio! Oivò, che birichino! Mi ero dimenticato un'importante spolverata di formaggio. Buon viaggio! Ed eccoci qui, risultato meraviglioso, la nostra pasta al forno. Ero ufficialmente pronta, che cosa dire, andiamo a mangiare! Commenta questo video su come tu faresti la pasta al forno e altre ricette da consigliarvi. Giuro, le farò, anche perché siamo in quarantena. Ma soprattutto, iscriviti al canale. Chi non si iscrive, non si laurea! Ma è una laurea! Chi non si iscriviti al canale.